anche per fare la testa iniziamo dall'anello magico dell'anello magico dopo aver fatto la catenella per bloccare facciamo 6 maglie 1 2 3 4 5 e 6 maglie basse stringiamo chiudiamo con una maglia bassissima il primo giro e facciamo il secondo giro facendo tutti i momenti quindi da 6 arriviamo a 12 1 e 2 3 e 4 5 e 6 7 e 8 9 10 11 e 12 abbiamo fatto il secondo giro lavoriamo ora come sempre a spirale e mettiamo un marca punti un pezzetto di filo che non trovo in questo momento ecco qua non ci è trovato il pezzetto di filo e cominciamo ad aumentare per fare la nostra testa che sarà una pallina quindi faremo il secondo giro una maglia una maglia e un aumento e diventeranno 18 5 e 6 e 7 la maglia normale 8 e 9 l'aumento 10 la maglia normale 11 e 12 l'aumento 13 normale 14 e 15 l'aumento 16 la maglia normale e 17 e 18 l'ultimo abbiamo fatto così il terzo giro spostiamo sempre il marcapunti e adesso facciamo 2 maglia e un aumento per tutto il giro quindi faremo 2 maglia 2 maglia e un aumento per tutto il giro avremo 24 maglia abbiamo fatto il quattro maglia e faremo il quinto giro faremo 3 maglia e un aumento e un aumento e arriveremo a 30 maglie quindi una due tre maglie e l'aumento lo ripeteremo per tutto il giro ed avremo 30 maglie ci vediamo alla fine del giro ho fatto il quinto giro ho 30 maglie sposto il marcapunti e adesso faccio 4 maglie 1 2 3 e 4 maglie e l'aumento e l'aumento 4 maglie e l'aumento lo ripeto per tutto il giro e alla fine avrò 36 maglie quindi ci vediamo alla fine delle 36 maglie ho fatto il giro da 36 maglie sposto il marcapunti e adesso faccio 5 maglie e un aumento per tutto il giro e arriverò a 42 maglie quindi 1 2 3 4 5 maglie l'aumento ripeterò 5 maglie e l'aumento per tutto il giro avrò 42 maglie ho fatto il giro da 42 maglie sposto il marcapunti di nuovo ora farò il giro da 40 devo arrivare a 48 quindi faccio 6 maglie e un aumento quindi 1 2 3 4 5 6 maglie l'aumento ripeterò sempre 6 maglie 1 2 3 4 5 6 e l'aumento per tutto il giro e avrò 48 maglie ho fatto il giro da 48 maglie faccio l'ultimo giro di aumenti portando le maglie da 48 a 54 facendo 1 2 3 4 5 6 7 e l'aumento lo ripeto per tutto il giro e avrò 54 maglie ho portato le maglie a 54 adesso lavorerò 7 giri senza fare aumenti quindi da 54 maglie questo che ho fatto è il nono giro adesso dal decimo fino al sedicesimo lavorerò le maglie come si presentano una sull'altra devo fare una pallina e poi comincerò le diminuzioni quindi facciamo 7 giri lavorando le maglie così come sono a dopo ho fatto i miei giri senza aumenti ora cominciamo a rifare le diminuzioni abbiamo chiuso facendo abbiamo finito gli aumenti facendo 7 maglie e un aumento ora faremo 7 maglie e una diminuzione così riporteremo le maglie da 54 a 48 quindi lavoreremo una due tre quattro cinque sei sette maglie e la diminuzione una due tutto il giro quattro ora 48 e continuo a diminuire questa volta farò sei maglie e una diminuzione e arriverò a 42 quindi una due tre quattro cinque sei maglie la diminuzione sei maglie e una diminuzione per tutto il giro avrò 42 maglie ho fatto anche quest'altro giro di diminuzioni adesso devo continuare a fare le diminuzioni farò invece di sette maglie una diminuzione farò cinque maglie e una diminuzione prima ho fatto sette poi adesso sei adesso cinque però prima di andare avanti voglio mettere gli occhietti allora conto qui dalla cupola uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici al dodicesimo giro inserisco il primo occhietto così l'occhietto di sicurezza blocco con ecco qui ho bloccato un occhio e a distanza di uno due tre quattro cinque sei sette otto nove nove e dieci allora a distanza di dieci perché voglio metterli distanti uno due tre quattro cinque sei sette otto nove e dieci qui metto il secondo occhietto ecco qui ecco anche questo lo blocco ecco qua ecco qua adesso da 42 arriverò a 36 quindi farò cinque maglie e una diminuzione per tutto il giro arriverò a 36 ho fatto questo giro di diminuzione sono arrivata a 36 maglie sposto sempre il marca punti e continuo questa volta faccio quattro maglie una due due tre e quattro maglie e la diminuzione quattro maglie e la diminuzione e avrò 30 maglie fatto anche questo giro adesso 30 maglie prima di continuare e fare tre maglie e una diminuzione e arrivare a 24 voglio imbottire la testa cominciamo ad imbottirla cominciamo ad imbottirla e adesso facciamo 3 maglie e una diminuzione e arriviamo a 24 maglie quindi sposto sempre il marca punti e facciamo 1 2 3 maglie e la diminuzione di nuovo 3 maglie e la diminuzione per tutto il giro arriviamo a 24 ho fatto anche questo giro con 3 maglie e una diminuzione o 24 maglie adesso faccio un giro da 2 maglie e una diminuzione e arriverò a 18 quindi 1 2 maglie e la diminuzione e la diminuzione 2 maglie e la diminuzione e la diminuzione di nuovo 1 2 maglie la diminuzione La diminuzione, una, due maglie, di nuovo la diminuzione, una, due maglie, e l'ultima diminuzione, vedete che il forellino continua a stringersi, continuerò adesso ad imbottire prima che sia troppo stretto, vedete, vedete, vedete. Imbottisco ben bene, deve essere bello pieno, e faccio poi l'ultimo giro di diminuzione. Quindi porto le maglie da 18 a 15, quindi faccio solo 3 diminuzioni. Quindi farò 4 maglie e una diminuzione, 4 maglie e una diminuzione, e avrò 15 maglie, perché ne ho 18, ne troglierò 3. Ecco qui, la mia testolina è bella. Piena, vedete. Aggiustiamo gli occhi in questo modo, e faccio l'ultimo giro di diminuzione. Quindi farò 4 maglie e una diminuzione, perché devo togliere questa volta solo 3 maglie. Quindi sposto sempre il marca punti, e cominciamo. 1, 2, 3, 4, e la diminuzione. 1, 2, 3, 4, e la diminuzione. 1, 3, 4, e l'ultima diminuzione. A questo punto la testa è finita, chiudo il lavoro e lascio un po' di filo per cucire. Eccolo qua. E tolgo anche gli marca punti, ed ecco qui la mia testolina. Facciamo adesso le orecchie. Anche per fare le orecchie partiamo dall'anello magico. catenella per bloccare, e le nostre 6 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, e 6 maglie basse. Stringiamo. Chiudiamo il giro con una maglia bassissima. in questo modo. E adesso facciamo il primo giro di aumenti. però faremo una maglia, una maglia e un aumento. Quindi da 6 arriveremo a 9. quindi sono 3, una maglia sono 4, l'aumento sono 5 e 6, la maglia sono 7, e l'ultimo aumento. 8, 8, e 9. Abbiamo fatto il secondo giro. Mettiamo anche qui un marca punti e facciamo adesso un giro da 9. Quindi senza fare aumenti. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. Abbiamo fatto il terzo giro. Facciamo ora il quarto giro. Spostiamo il marca punti e anche questa volta facciamo degli aumenti ma sempre 3. Quindi facciamo 1 e 2 maglie e l'aumento. 1, 2, 3 e 4, 1 e 2 maglie e l'aumento. abbiamo adesso 12 maglie. continuiamo ad aumentare sempre 3 maglie ogni giro quindi questa volta faremo 1, 2, 3 maglie e l'aumento lo ripeteremo per tutto il giro e avremo 15 maglie. fa anche il quinto giro. Adesso facciamo il quinto giro. 3, 2, 3, 3, 4 maglie e l'aumento. 1, 2, 3, 4, 5 maglie e l'aumento. Con l'aumento. Con l'aumento. 5 maglie e l'aumento per tutto il giro e avremo 21 maglie. Abbiamo fatto l'ottavo giro. Abbiamo 21 maglie. Ora il nono giro sarà un giro da 21 maglie. Quindi una maglia su ogni maglia. 1, 2 e così via. Ho fatto anche questo giro senza aumenti. Ora faccio l'ultimo giro da aumenti e porto le maglie da 21 a 24. Quindi faccio una, due, tre, quattro, cinque, sei maglie e l'aumento. Per tutto il giro avrò 24 maglie. Ho fatto il decimo giro portando le maglie 24. Ora lavorerò fino al quindicesimo giro senza fare aumenti. Quindi una maglia su ogni maglia 24 maglie fino al quindicesimo giro. Ci vediamo alla fine del quindicesimo giro dove cominceremo a fare le diminuzioni. Sono arrivata al quindicesimo giro lavorando sempre 24 maglie. Adesso comincio le diminuzioni. Quindi sposto il marca punti e faccio sei maglie. Una, due, tre, quattro, cinque e sei maglie e la diminuzione. Lavoro sei maglie e la diminuzione per tutto il giro e avrò 21 maglie. Ho fatto il giro di diminuzioni e ho portato le maglie a 21. Ora faccio un giro di 21 maglie così come si presentano. Quindi una maglia su una maglia. Al prossimo giro farò di nuovo la diminuzione. Porterò le maglie da 21 a 18. Ho fatto il giro senza diminuzioni. Ora rifaccio le diminuzioni. Quindi riporto le maglie da 21 a 18 e faccio uno, due, tre, quattro, cinque maglie e la diminuzione. Di nuovo uno, due, tre, quattro, cinque maglie e la diminuzione. Farò per l'ultima volta cinque maglie e una diminuzione e avrò 18 maglie. Farò poi un giro da 18 maglie. A dopo. Ho fatto il giro da 18 maglie. Ora faccio l'ultimo giro di diminuzioni e porto le maglie da 18 a 15. Quindi faccio uno, due, tre e quattro maglie e la diminuzione. di nuovo uno, due, tre, quattro maglie e la diminuzione. di nuovo uno, due, tre, quattro maglie e l'ultima diminuzione. Ho 15 maglie. Faccio ora un giro da 15 maglie. una maglie. Una maglia su ogni maglia. quindi uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, sette. due, tre, quattro, 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 quattro. Ho finito il lavoro. Le orecchie non si imbottiscono. Adesso posso togliere il marca punti. Piego il lavoro a metà, vedete, così. e lavoro sette maglie basse prendendo tutte e due, vedete, così per chiudere il lavoro. quindi faccio uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Chiudo, lascio un po' di filo per cucire. Ecco qui. E ho fatto l'orecchio. Poi questo verrà piegato così e verrà cucito. Qui. Sulla testa. Di orecchie naturalmente ne faremo due. Io l'ho già fatta. Eccola qui l'altra. Eccola qua. E ho le mie orecchiette. Adesso dobbiamo fare le braccine. Allora, anche per fare le braccine del coniglio utilizziamo l'anello magico. Facciamo la catenella per bloccare e le nostre sei maglie. Una, due, tre, quattro, cinque e sei maglie. Stringiamo e chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima maglia lavorata. Eccola qua. Abbiamo fatto così il primo giro. Ora facciamo un giro di tutti gli aumenti. Quindi due maglie su ogni maglia. Una, due, tre e quattro, cinque e sei, sette e otto, nove, dieci e sull'ultima, le ultime due, undici e dodici. Fatto così il secondo giro. Adesso mettiamo un marca punti e questa volta aumentiamo solo tre maglie. Quindi facciamo uno, due e tre maglie e un aumento e sono cinque. Uno, due, tre maglie e l'aumento e siamo a dieci. Uno, due, tre maglie e l'ultimo aumento e siamo a quindici maglie. Ora lavoreremo dal quarto giro, quindi da questo giro qui, fino al quindicesimo giro, sempre quindici maglie, senza fare né aumenti né diminuzioni. Andiamo avanti fino al quindicesimo giro, senza aumenti. Ora faccio un giro diminuendo, riporto le maglie. Ho spostato il marca punti. riporto le maglie da quindici a dodici, quindi faccio uno, due, tre e la diminuzione. 1, ho perso il filo, 1, 2, 3 e la diminuzione. 1, 2, 3 e l'ultima diminuzione. Sposto di nuovo il marca punti. E lavoro adesso tre giri da dodici, quindi uno, due, una maglia su ogni maglia, due, tre e continuo tre giri. Ho fatto anche i giri da dodici, senza diminuzioni. Adesso imbottisco perché sennò mi diventa troppo stretto il foro. Ecco qui. E adesso faccio ancora diminuzioni, però questa volta ne faccio due. Quindi faccio quattro maglie basse. Quindi faccio uno, due, tre e quattro maglie basse. e l'ultima diminuzione. In questo modo ho tolto due maglie e ho dieci maglie. Sposto il marca punti e faccio un giro da dieci maglie. Ho fatto il giro da dieci maglie, sposto il marca punti e adesso vado a fare l'ultima diminuzione. faccio una, due e tre maglie e una diminuzione. Di nuovo, una, due e tre maglie e l'ultima diminuzione. In questo modo ho otto maglie. Posso togliere il filo, continuo ad imbottire l'ultimo pezzettino. e adesso faccio un pochino. e adesso piego il lavoro così a metà, in questo modo, e chiudo prendendo tutti e due i lati. vedete, come ho fatto per le orecchie, vedete? Così. Con quattro maglie. Una, due, tre e quattro maglie. Lascio un po' di filo per cucire. Ecco qui, ho fatto anche il braccino. Io già l'avevo fatto un altro, ne sono due. Ecco qua. Non mi rimane adesso che fare la codina. sempre facendo il mio solito anello magico blocco e sei maglie. uno, due, tre, quattro, cinque e sei maglie. Stringo, faccio la maglia bassissima per chiudere il mio giro. e ho fatto il primo giro. Secondo giro, tutti gli aumenti, quindi uno, due, tre, quattro, cinque e sei. sette e otto, nove e dieci, undici e dodici. Ho fatto il secondo giro. Ora metto il marca punti, per non sbagliare. E faccio di nuovo gli aumenti, facendo questa volta però una maglia, una e un aumento, due e tre. una maglia e un aumento, una maglia e un aumento, una maglia e un aumento, ancora una maglia e un aumento. una maglia e l'ultimo aumento, abbiamo 18 maglie. Sposto il marca punti e vado a lavorare un giro, anzi due giri da 18 maglie. ci vediamo dopo. Ho fatto i due giri da 18 maglie, ora rifaccio le diminuzioni e quindi faccio una maglia e una diminuzione, una maglia e una diminuzione, una maglia e un aumento. una maglia e una diminuzione, una maglia e un'altra diminuzione, una maglia e l'ultima diminuzione. sono tornata ad avere 12 maglie. Vedete? Ho fatto una specie di pallina che dovrò imbottire. faccio ora l'ultimo giro facendo 12 maglie. quindi 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 12 Chiudo il lavoro facendo una maglia bassissima e taglio il filo un po' lungo per cucire. Eccolo qui. Eccolo qui. Eccolo qui. e adesso non ci rimane che assemblare tutti i pezzi. Allora, cuciremo. Mettiamo un po' di spiglio, vi faccio vedere. Allora, cuciremo le braccine. Qui ai lati. un po' di spiglio. dalla testa metteremo, vedete, le orecchie così. Le orecchie qui. e dalla parte di dietro cuciremo la codina. Vedete? quindi. Braccia. Orecchie sulla testa. Codina dietro. Assembliamo i pezzi. Poi, se volete, davanti qui, ricamate una boccuccia, come ho fatto io. Ho cucito quindi tutti i pezzi, ho ricamato un nasino, ho attaccato un fiocchetto. Vedete? Ho messo la codina. Le orecchie. Le orecchie. E il mio coniglietto. Semplicissimo e pronto. Spero di essere stata chiara. Spero che questo tutorial vi piaccia. Ci vediamo al prossimo.